Forza Italia scende in piazza indossando i gilet azzurri in segno di protesta nei confronti di chi sta indebitando il paese. Una manovra scelerata, questa l'opinione del partito fondato da Silvio Berlusconi sulla finanziaria. Il partito festeggia anche con questa iniziativa il 25esimo anniversario di fondazione. Meno tasse, più lavoro, giù le mani dalle pensioni e giù le mani dal no profit. Sono le scritte sulle pettorine azzurre che indossano parlamentari, consiglieri regionali, consiglieri comunali, e i dirigenti di partito intervenuti questo pomeriggio alla biblioteca provinciale di Benevento in un momento di incontro con i rappresentanti delle categorie produttive per presentare l'iniziativa. È una manovra che non aiuta le imprese, che aumenta le tasse, che non aiuta assolutamente i pensionati, che non aiuta gli anziani e che invece fa molto assistenzialismo, che sicuramente di qui a qualche anno vedremo quanto debito pubblico è aumentato e quando ancora aumenterà. Quindi un modo per dire no a questa manovra, no a questo governo e no a questo contratto che hanno messo in campo 5 Stelle e Lega. I punti che Forza Italia ha individuato per dire no a questa manovra sono gli stessi punti che i rappresentanti di queste attività produttive e i sindacati hanno ben evidenziato. E il commissario di Forza Italia Domenico Mauro ha annunciato una commissione d'ascolto permanente per le forze produttive. Intanto domani pomeriggio appuntamento alle ore 16 in Piazza Torre dove sarà allestito un gazebo per spiegare a tutti le ragioni della mobilitazione.